Bene, rieccoci, Advisory Update, l'approfondimento del pomeriggio riguarda i 5 temi, lo vedete anche nel nostro titolo, di investimento per cavalcare l'inverno tecnologico, che poi sono anche i 5 temi probabilmente che andranno per la maggiore per il 2021 e che lo contraddistingueranno in particolare. Lo facciamo con un ospite che è già in collegamento con noi e che saluto, Filippo Lanza, gestore del fondo Edge Invest Numen Credit Fund, Edge Invest SGR. Filippo, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per avermi con voi. Allora, è un argomento interessante e che ci permette anche un po' di uscire dalla stretta attualità e che ci costringe in qualche modo a riferire anche dei soliti temi, non propriamente allegri, tra Covid-19, come dire, recovery e anche ovviamente la volatilità e l'incertezza dei mercati. Partiamo dal concetto dell'inverno tecnologico, prima di snocciolare i temi che con SGR proponete all'interno di un vostro report che abbiamo ricevuto e letto, molto interessante. Partiamo da inverno tecnologico e così insomma vediamo anche di capire che cosa sta succedendo. Filippo? Certo, diciamo che per inverno tecnologico quello che andiamo a definire è un periodo di altissima competizione, sia industriale, finanziaria, che attraversa tutti i settori, che sostanzialmente è guidata da due aspetti anche relativamente separati, che però uniti diventano ancora più potenti. Il primo è un'innovazione tecnologica che è andata crescendo in modo esponenziale negli ultimi 10-15 anni, pensiamo a quello che può fare un milione di dollari investito in tecnologia adesso rispetto a quello che poteva fare 10-20 anni fa, è impressionante, è una crescita esponenziale. Dall'altra parte abbiamo ovviamente, a seguito di situazioni economiche che nulla hanno a che vedere con la tecnologia, quali la grande crisi finanziaria del 2009, piuttosto che il Covid recentemente, ovviamente abbiamo avuto uno stimolo monetario impressionante. Perché quello è importante? Perché essendo la curva dei tassi sostanzialmente a zero, se non negativa addirittura, diciamo che ogni start up, ogni business plan, ogni idea interessante, intelligente, anche a 10-20 anni, si trasforma in una realtà oggettivamente, nel senso che quella stessa profitabilità a 10-20 anni, che una volta sarebbe vista come troppo rischiosa, adesso sostanzialmente è vista di un progetto possibile e realizzabile, in quanto i tassi sono a zero. Quindi il present value viene completamente azzerato attraverso il tempo, non ci sono differenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono moltissimi investimenti, quindi abbiamo da un lato una tecnologia superpotente, dall'altro una marea di soldi che ci va dentro, la combinazione delle due è devastante. E cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tutta una serie di nuovi attori che si stanno espandendo sempre di più, da settori che potrebbero essere di servizi all'inizio, di ricerca, fino alla pubblicità, adesso entrano sulla parte finanziaria, assicurativa, sulla parte del manufacturing e sempre di più così vedremo. Cosa vuol dire? Che ci sono tutta una serie di società invece che appartengono un po' al vecchio mondo, le quali sono spesso oberate anche da debito e si trovano in una situazione in cui non hanno le possibilità finanziarie delle altre società nel adattarsi e dall'altra parte hanno una competizione spesso anche un po' sleale da parte di grandi giganti tecnologici e quindi questo crea quello che noi chiamiamo l'inverno tecnologico e questo pensiamo che sia un qualche cosa che è stato iperaccelerato dagli eventi del Covid e produrrà una lunga ondata di fallimenti e ristrutturazioni societari soprattutto nei settori più esposti alla rivoluzione tecnologica. Torniamo anche un po' all'accelerazione che inevitabilmente il Covid va a generare nei confronti di alcuni settori e di alcune situazioni già in divenire precedentemente. Andiamo a vedere allora i temi che insomma state seguendo più da vicino con tanto di opportunità che offrono per gli investitori. Il primo abbiamo anche un cartello che ce li riassume questi 5 temi, eccolo qui, è un argomento di cui abbiamo sentito parlare parecchio, ultimamente se ne parla meno ma perché ci sono dei market mover maggiori, beh non ci giro più attorno perché non ce n'è bisogno. Il 5G, cioè il 5G che sicuramente è un tema di grande interesse anche se non esiste ancora forse, cioè da questo punto di vista Filippo ti chiedo se avete già magari inquadrato quello che potrebbe essere l'aspetto del 5G che sarà più popolare in assoluto, cioè quello che si diffonderà e sarà più portata, alla portata dei più insomma della fetta maggiore di popolazione che appunto potrà usufruire dello strumento insomma 5G. Certo, ma allora innanzitutto è verissimo che di 5G se ne parla molto e se ne vede poco o se ne utilizza ancora meno diciamo, nonostante alcuni cellulari siano già disponibili in quanto predisposti anche se il network non c'è. Diciamo che il 5G per certi aspetti potrebbe essere un po' come l'introduzione di internet dove all'inizio era un qualche cosa, se ci ricordiamo soprattutto quelli un po' più vecchietti come me, dove all'inizio si usava per l'email ma ancora non c'erano tante applicazioni, anzi le poche che c'erano erano pressoché inutilizzabili e pian pianino con lo sviluppo, con l'introduzione tantissime applicazioni si sono ricostruite e reinventate intorno alla nuova struttura. Il 5G ovviamente consente delle cose che al momento la rete di telecomunicazione o di trasmissione dati non consente di fare, la differenza tra l'introduzione di internet e l'introduzione del 5G è che ovviamente il nostro è già un mondo molto proiettato qua su quelli che sono i dati, su quella che è della digitalizzazione e quindi secondo noi diciamo che mentre la curva di internet c'è stata, ma è stata relativamente lenta, ci pensiamo all'inizio, quella del 5G sarà molto più veloce. Una delle problematiche del 5G ovviamente è la struttura e la costruzione dell'infrastruttura e la quale si interconnette anche con dei problemi geopolitici non indifferenti. Internet alla fine definirà e comunque le reti di dati saranno i nuovi confini nazionali, e le nuove vie, chiamamole, di comunicazione piuttosto che di trasporto saranno le vie dei dati e quindi c'è una, diciamo così, un complesso interagire di forze geopolitiche in quella che sarà la definizione delle infrastrutture, però secondo noi ci sarà un investimento fortissimo sul 5G e non dimentichiamoci anche che quello che ci aspettiamo noi ci sarà un ribilanciamento di quelli che sono i costi e i benefici all'interno dell'ecosistema che tratta intorno ai network. Se noi pensiamo al network del controllo di comunicazione europeo è stato massacrato da regolamentazione, tassazione, mancanza di investimenti, mentre dall'altra parte abbiamo degli utilizzatori, quali le grandi società come Netflix, Apple e Google, che ovviamente fino adesso hanno utilizzato il network senza spendere o senza pagare. Con il 5G secondo noi quel tipo di divisione dei costi e benefici verrà rivalutato e ci sarà una partecipazione molto forte da parte dei governi, l'abbiamo visto ovviamente nel caso dell'America che vuole dei network nazionali, quindi non voglio utilizzare provider cinesi, ma lo vedremo anche nel caso dell'Europa con una deregolarizzazione e una liberalizzazione di quelli che sono i vincoli dell'antitrust. Però ecco diciamo che come analogia consiglio sempre di pensare a quello che è stato internet all'inizio, quello che sarà il 5G, con la differenza che quello che vedremo sul 5G in un anno o due sarà l'internet compresso dei primi 5-10 anni, quindi vedremo moltissime applicazioni al 5G e moltissime saranno IoT, cioè l'Internet of Things, il controllo robotico automatico di tantissime operazioni e attività che prima non si vedeva, che poi crea un'altra dimensione a quello che è l'inverno tecnologico, perché ovviamente una cosa evidente è che ci sarà sempre o meno bisogno di tantissimi profili lavorativi che invece ci sono adesso, perché ovviamente la tecnologia andrà a ridurre il bisogno di interazioni umane su tanti aspetti della filiera produttiva o dei servizi. Peraltro Edge Invest SGR segnala come, diciamo così, la questione, l'impiego di sensori ottici potrebbe essere uno degli sviluppi più interessanti del 5G e se torniamo al cartello che abbiamo preparato, insomma ci sono due aziende, due compagnie che puntano, che investono su sensori ottici e cioè Sony e AMS AG da questo punto di vista, insomma si può monitorare e puntare su queste due compagnie per quanto riguarda gli investitori in generale. Dal 5G ci colleghiamo anche al secondo tema che è quello delle reti private, inevitabilmente si lega un altro trend da monitorare, la possibile crescita vertiginosa delle reti private che fanno uso di questa tecnologia. Palo Alto Networks è, da questo punto di vista, tra i vari player ben posizionata come principale fornitore di servizi cyber security grazie a una piattaforma sicuramente innovativa, quindi altro nome da segnare sul taccuino. Io però con Filippo Lanza, gestore del fondo Edge Invest Numen Credit Fund, volevo concentrarvi sul terzo punto che è quello del fintech, sicuramente sfida epocale per le società finanziarie tradizionali e che sta determinando anche un entusiasmo piuttosto forte, insomma anche se in effetti forse in Italia questo entusiasmo è ancora, è meno percepibile di quello che sta accadendo rispetto a quello che sta accadendo in Italia, non so cosa ne pensi tu. Ma diciamo che fintech è forse di tutte le applicazioni tecnologiche, è forse quella più facile da sviluppare nel futuro in quanto finanza alla fine è fatta di numeri ed è assolutamente digitalizzabile. Quello che sicuramente abbiamo visto nel caso dell'Italia come anche di altri paesi dove la popolazione soprattutto quella con bisogno di servizi finanziari è di una certa età, sicuramente quello che ha aiutato moltissimo è stato il Covid, perché a partire da me stesso aiutando i bambini a fare l'online schooling, che può essere un nonno che vuole avere la videoconference con i bambini, siamo tutti diventati, abbiamo tutti fatto un cosiddetto crash course di tecnologie applicate in casa e quindi secondo me il fintech era uno dei settori che verrà turbo accelerato dal Covid, nel senso che tantissime cose che prima erano viste come estranee o diverse, adesso sono parte se vogliamo del vocabolario quotidiano delle proprie attività, dei propri ragionamenti. Il fintech è poi un settore dove tanti dei super tech giants sono stati molto riluttanti ad entrare perché non volevano essere regolati, ma a questo punto diciamo che il rubicone è stato attraversato, nel senso che chiaramente c'è un problema con i grandi tech giants perché non pagano tasse, perché usano i dati individuali senza pagarli, perché non sono regolati e quindi comunque la regulatory wave su questi grandi giants arriverà, vuol dire che proprio per quello a questo punto comunque entreranno sulla parte fintech. La parte fintech poi all'interno di quello che è il contesto che veniamo noi di inverno tecnologico è quella forse dove è più facile raccogliere soldi come startup, che è l'altro aspetto importante del tech winter, proprio perché i tassi sono a zero, tantissimi investitori sono più predisposti a rischio, quindi investono in startup, tantissime startup che hanno delle idee brillanti ma non hanno il capitale, visto l'euforia che c'è sui mercati dei capitali privati, nel momento in cui vanno a raccogliere soldi il loro stesso business model diventa self-fulfilling, quindi quello che era un sogno, una bella idea, un bel concetto ma senza i soldi, tutto in un colpo diventa un sogno fully funded con un capitale assolutamente in cash pronto, disponibile e un investimento in un ciclo tecnologico che come dicevamo prima migliora ogni giorno e costa sempre di meno. Quindi fintech sarà qualcosa assolutamente rivoluzionario, all'interno di quello una cosa che non va sottovalutata è come soprattutto l'Europa abbia adottato una serie di direttive, soprattutto il Payment Directive System 2, che sostanzialmente aprono la cassaforte dei dati bancari degli individui, previa autorizzazione degli individui ovviamente, ma a tantissime fintech company, quindi secondo me quello sarà un settore assolutamente esplosivo ed uno dei motivi per cui siamo assolutamente negativi sul sistema bancario tradizionale, nel senso che è un settore assolutamente super levereggiato, molto esposto e con pochissime possibilità di competere con quelli che poi saranno le nuove start up, che hanno barriera all'entrata bassissima. A proposito di banche, è segnalato Cardlytics che è società attiva nell'advertising attraverso i canali digitali delle banche di cui vengono apprezzate le obbligazioni convertibili dato il basso livello di indebitamento. Cardlytics è segnalato nel cartello che vi stiamo mostrando, anche grazie alla regia. Un altro argomento importante, siamo verso la fine ma cerchiamo di concentrarci anche negli ultimi due punti, cioè il cloud e la transizione energetica. Parliamo tanto anche qui sulle fonti di transizione energetica dato che, come saprai anche tu Filippo, viene indicato come la svolta per il 2021, già ce ne accorgiamo ad esempio con il prezzo del rame che sta salendo e comunque sia un po' sulla bocca di tutti anche a livello politico, forse dovrebbe essere un po' di più, ma questo è un altro discorso. Sul cloud invece c'è un ragionamento interessante da fare anche perché si parla tanto dei giganti tecnologici, chiedo scusa, Amazon, Google, Microsoft, che stanno sviluppando questo aspetto. Un aspetto, un tema, un argomento la cui penetrazione nella società tuttavia dal vostro punto di vista anche qui, correggimi se sbaglio, è ancora abbastanza basso insomma, quindi c'è anche evidentemente anche spazio per miglioramenti e sviluppi ulteriori da questo punto di vista. Certo, ma diciamo che la cloud o comunque la digitalizzazione dei propri database, delle proprie attività, delle proprie funzioni, spostandola poi a servizi che siano ospitati sulla cloud, che sia da Amazon, che sia da Google o da altri, è sicuramente un trend che vedremo, che è fortissimo. Non dimentichiamoci i milioni di persone che hanno lavorato da casa o remotely negli ultimi 12 mesi che quindi si sono messi sulla cloud, che prima non si sapevano neanche cosa fosse solo, sapevano cos'era ma non l'avevano utilizzata quotidianamente. Il problema che vediamo lì è per il solito concetto di Tech Winter, è che è vero che i grandi giganti hanno delle grandi capacità però ci sono tutta una serie di altre società che entrano in questo ecosistema e che riescono a ottimizzare o perfezionare alcuni aspetti e quindi su quello bisogna investire su quelli che rendono quell'ecosistema più efficiente. Il cosiddetto total addressable market, il TAM è immenso, nel senso che comunque moltissimi business grandi, piccoli governi, autorità locali devono fare quel tipo di migrazione e quel tipo di migrazione sarà importante e andrà avanti per anni. Una cosa da non sottovalutare, non dimentichiamoci mai che il mercato è dov'è, ovviamente per l'immissione monetaria, ma anche dall'altra parte perché abbiamo dei grandi mostri tecnologici quali Google, Amazon e Microsoft che sono lì, ma sono lì tutti perché alla fine offrono lo stesso prodotto e servizio che sono i cloud related services e quindi bisogna stare attenti su quello perché la sensazione che abbiamo noi è che è vero che è un mercato che sarà esplosivo, però pian pianino i margini dei prodotti più semplici andranno riducendosi e quindi stando all'interno delle nicchie, le società che perfezionano l'ecosistema forse è meglio che stare nei grandi monopolisti di quel settore i quali secondo noi vedranno sicuramente un'erosione nella profittabilità dei propri servizi. E su cloud viene segnalato, insomma SGR segnala VMware che è una società attiva nel campo della virtualizzazione del cloud computing. La transizione energetica vengono segnalate tre realtà che sono Full Cell Energy, Plug Power e Serious Power che hanno una keyword in comune, cioè l'idrogeno, sostanzialmente si parla di aziende legate all'idrogeno e che possedono tecnologie anche rivoluzionari, insomma un solido portafogli di brevetti tra partnership solide e ordini appunto sicuramente in aumento. Si può invece puntare al contrario e al ribasso quando c'è solamente marketing ma insomma non supportato da tecnologie veramente innovative insomma da questo punto di vista. Quindi sicuramente questo è il settore del green, degli investimenti quindi la transizione energetica è un argomento, è l'altro argomento importante segnalato da SGR e che vi segnaliamo appunto anche attraverso il nostro cartello ma che è anche un argomento che in qualche modo abbiamo approfondito anche in altre situazioni. Abbiamo i tempi molto ristretti per cui Filippo Lanza grazie davvero per essere stato qui con noi e per averci in qualche modo allargato ulteriormente la view insomma su quelli che saranno i 5 temi di investimento per cavalcare il cosiddetto inverno tecnologico. Lo ricordiamo, Filippo Lanza gestore del fondo Hedge Invest Numen Credit Fund di Hedge Invest SGR. Filippo grazie e ovviamente anche buone feste. Grazie a voi, buone feste anche a voi. Grazie. Grazie ancora a Filippo Lanza.